...flex! ...facchi freddini! ...facchi freddini! ok, facciamo un giro perché almeno vi scaldate e rimane la traccia guida della voce dentro! ...facchi freddini! ...facchi freddini! ...facchi freddini! ...dici pausa pranzo adesso che siamo tutti pronti a riuscire? ... ...obviamente! ...dicorattivo! ...facchi freddini! ...facchi freddini! ...non devi pensare un movimento che sia più ampio! ...flex! vediamo ci viene a cantare un uomo finito io non capisco perché me leggi del totale al contrario ragazzi ci consigliate Anna a mangiare da paradiso io a Pari o da che parte che noi ci avevamo fame ma è stata via stampa o no? no è rimasta qui ma andate via allora noi ci vediamo vediamo via la vespa allora stacchio teoricamente questa fai le foto io sono finocchio perché mangio i finocchi napolo napolo a corto ragion il mio cortometraggio bolt on cortese come cortessi ma non il candy cotton il boicotto il tuo natale se mi scordi il tuo biscotto non scordo che scordo non scordo che scordo mamma mia che curve questo video è family friend è family friend vedevo la batterista che è una donna tutto nella cucina c'è vuoi dire sempre al lavoro ecco c'è Casio che fa il lavoro d'ufficio rispondo alle email dei produttori ok allora per quella serata in cui ci pagate 500.000 euro tutto confermato te lo faccio rifare cercare staccio sopra meglio a quei passaggi lì vuoi iniziare subito adesso? si la faccia è una felicità bellissima ascolta eh ho fatto una serie apposta perchè non venisse la luce faccio e bridge bella a tutti ragazzi qui a favij oggi ci troviamo su fortnite ragazzi ahhhh voi mangiate i castori noi no sono fiducioso di uscire a fare un prodotto della della mignotta diciamo che ci sono due fattori che contribuiscono a questo effetto chiamato effetto sudano esatto svalvoli scandisce la bene stavamo parlando prima di questa cosa bello a tutti ragazzi leno buono era a tempo tundra si si siamo felaci e le voci dai coglioni siamo felaci e le voci dai coglioni si si mi sentite? non mi sentite? no non mi sentite? non mi sentite? non mi sentite? non mi tocca allora stai riprendendo no 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 brilliamo 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 no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.